Un'associazione è nata due anni fa dopo vari infortuni di piloti gravi, lesioni del midollo e allora ci siamo riuniti alcuni appassionati e abbiamo deciso di creare questa associazione per portare avanti questi aiuti che vogliamo dare ai piloti infortunati recentemente che hanno dei problemi di finanziamenti per comprare sedie a rotelle o perlomeno sistemare i loro appartamenti e una parte la diamo alla ricerca per vedere se riescono a trovare la soluzione a questo grossissimo problema e quindi noi abbiamo l'aiuto, chiamiamo tutti gli anni alla gara che organizziamo i piloti di velocità e di motocross e abbiamo un forte riscontro da parte loro e una grossa partecipazione e speriamo di andare avanti così noi cercheremo di fare del nostro meglio